VACANZE 2020 E' la prima vacanza Senza moto raga Possiamo partire per raggiungere Livorno Pausetta pranzetto Rustichella Abbiamo speso più pranzari in autogrill che tutta quanta la vacanza Cambio pilota Eccomi qua Sette minuti siamo arrivati al porto In barco passeggeri Dobbiamo mettere la mascherina perchè ci prendono la temperatura Guarda che bella che è Dentro una nave 3-4 frecce Accampamento trovato Biscottino time Abbiamo trascorso i primi 15 minuti del viaggio Tarallino time Sono di un chimico raga E' passata un'ora dalla partenza Io non so Orario aperitivo Tortillas con salsa piedi Lo sbarco in Sardegna Sono le 11 e mezza Per arrivare all'alloggio che abbiamo prenotato una settimana fa Ci vogliono 66 km Ma la cosa bella E' che per il primo giorno non abbiamo l'alloggio E mi risparmio raga Torniamo in spiaggia questa sera Prima di raggiungere il posto però è meglio fare un pit stop A base di soppressa e maionna In un autogrill chiuso Bella cena con vista Soppressa e maionna Buono buono E naturalmente Dato che siamo in vacanza non ci facciamo mancare niente Quindi anche dolcetto finale Dopo il quarto diventa buono Adesso guiderò io Quindi finché non arriveremo a destinazione Se qualcuno non fa clip Non ci saranno clip Dopo 40 km siamo arrivati al faro di Santa Teresa di Gallura Maria Lì come potete vedere c'è il faro Questo mi sa che sarà il nostro alloggio per la notte Ma dormi nudo? Boh raga io sono in stanza È ubriaco di sonno Spendiamo le luci raga Ma i denti? Ma che i denti? Siamo in macchina Ma come fai a dormire a petto nudo? Buonanotte Ho scoperto che se sei alti un metro e novanta È un po' difficile dormire in una macchina Ma in teoria dovremmo vedere l'alba Oh sono le sei Oscar C'è una bella alba Jessica Ma che roba Ma che ripresa Ma quanto costo Mai più sta strontata Bene Adesso non ho più paura di andare qui dal fondo Andiamo a fare colazione Piccolo aggiornamento Siamo appena stati dal panificio Filigheddu Abbiamo trovato i cornetti E ne abbiamo presi otto Perché adesso parte la missione scrocco Andiamo dall'Anita E se non conoscete l'Anita È perché non avete visto la serie dell'anno scorso Siamo arrivati a casa dell'Anita La cosa bella è che lei non lo sa Secondo me è quello a sinistra Sì ma raga andiamo su così Sì ma sono le sette e un quarto Sti quasi si sveglieranno alle nove Non penso sia la cosa giusta Vabbè Io mi accomodo Sai che paura che prendono Fa un colpettino di tosse È la giusta C'è disentra di gioco la tua risata Però abbiamo portato i cornetti Siamo scusati Ma per te che siete qua Scusate 10 minuti Ma cazzo Che citazione Mi fa quasi più Vabbè Adesso noi Torniamo Adesso Non ci diciamo Il succo Fate come su questa casa nostra Prendeteli tutte prima Dopo 24 ore Siamo riusciti anche a lavarci i denti Sempre scroccando il bagno Anita Oltre ai denti Diciamo che ci ha regalato anche una doccia Fortunatamente Fammi vedere il pistone Dai non si può Va a vedere Doccia finita Adesso vi lascio l'Anita Che vi spiegherà L'attività di oggi No ciccio Per favore Oggi andiamo via in gommone Piccolo cambio di risoluzione Si passa all'action cam Perché essendo un po' sbadatino Magari nel gommoncino Perdo 2000 euro di videocamera E dato che ancora non li cago Ancora non li cago Road to porto Siamo arrivati al porto Questo è il nostro gommoncino raga Primo bagnetto fatto Acqua fantastica Adesso pranzetto con focaccina A bordo piscina Abbiamo appena finito la giornata in gommone Adesso andiamo a scoprire cosa abbiamo prenotato in 10 minuti settimana scorsa Per 30 euro a testa per 4 notti Breve room tour Anche perché più lungo non si può fare Camera di Oscar e Manuel Cucina salotto e terrazzo Di qua troviamo la mia camera e quella di ciccio E di qua il bagno e ciccio Ci leviamo che dopo andiamo a mangiare anche perché sono già le 8 Finita la doccia Finalmente andiamo a mangiare Dove mi è che è sto posto? È lui raga Curry, gamberi Avocado e pomodorini Gongole, pesto e pinoli Soglio E una bottiglia di biancofermo da dividere in due Perciò sarà l'ultimo video della serata In arrivo il rombo Bello Buono qua Bene È burro eh Mirtino digestivo E adesso portiamo il gelato Alla rite che oggi ha portato il gommone Mamma che positivo Il gommone Sai cosa facciamo? Un cingale Un frontale Eccoci qua Buono però Per solo i 150 euro di siato No Quello era il rombo con le patate e le zucchine Faglio un'onda energetica Oggi ci vestiamo col completo Fanno veramente schifo vero Niente che in videocamera vendono bene Però raga 5 euro da Primark spesi bene Fa vedere il costume Bello 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 Colazione al distributore Succhettino, pasta e benzina Cosa dice il prete al bimbo dolorante? Sto venendo Non lo so Qua vedi l'Islanda Se guardi bene Le barca ve la fanno qua Perché non lo so Troviamo le spiagge Budelli All'isa All'isola e Budelli Questa sarà mia giornata in swap Sapp Eccolo Eccolo Ora prendi la pagaia però Uno squat Dai Dennis ce la puoi fare Guardalo Dai Ma no Dai non ci credo Sai una maschera? Non ce la faccio più No mamma adesso l'ora balta Sono passate circa giuste 6 ore dall'ultima clip Siamo andati anche a fare la spesa per questa sera Perché andremo dall'Anita A mangiare la pasta con il ragù di salsiccia E tante icnuse Icnausa Good morning Va che preparazione È pronto Anita Salsiccia e pomodoro Fai un po' un ASMR di pasta cortesemente È un olio che inizia di pasta raga E anche questo martedì è giunto al termine Ritorniamo nel nostro appartamento E vediamo domani cosa ci aspetta domani Buongiorno Oggi giornatina tranquilla Gommone free Oggi va male Oggi va male Panino, pomodorini, pecorino e crudo Come avete potuto vedere oggi abbiamo fatto una giornata alternativa Non siamo stati in gommone ma siamo stati in spiaggia Oggi non ho messo la protezione 50 ma ho messo la protezione 20 Questo è il risultato Qui non so se si possa riprendere questa scena raccapricciante Adesso ci prepareremo e andremo a fare aperitivo al faro Raga siamo arrivati al faro faro di capotesta È brutto brutto è proprio bello Non mi sembra il massimo della sicurezza Sto riprendendo nel caso che qualcuno morisse Sta per morire Perfetto Vorrei proprio capire come poi ritorneremo da ubriachi Veramente incredibile che sia già giovedì Aspetti un anno di fare le ferie porco Cane hai una settimana di merda Porco Ma come cazzo è fatta l'Italia Cane La gente deve spaccarsi il culo un anno per avere una settimana Abbiamo fatto gommone gommone spiaggia Oggi facciamo gommone con l'incipit Che oggi faremo colazione in gommone Quindi la giornata durerà ancora meno del solito Colazione in gommone Stiamo facendo un set fotografico L'isola di Budelli Guarda che roba Giovedì sera questa sera mangeremo il porchetto Va a che posticino Ciao Ciccio cos'è che è arrivato Tortino di pane Formaggio Con del pane raffermo Gli altri Sono gnocchi Al sugo praticamente Che loro chiamano Zaga zaga È arrivato Porceddu Buono buono Seadas Ed è proprio con questa seadas Che sono finite le clip non bannabili Quelle che avete appena visto Sono state le mie vacanze estive 2020 Insieme a Ciccio, Manuel e Oscar Ho provato a fare un montaggio alla Nicola Balini Ma mi sa che a lui vengono meglio Ringrazio la lente per averci ospitato tutti questi giorni in gommone Ringrazio la Sardegna per i posti magnifici che ha Dalla Sardegna in realtà ci sono tornato ieri sera E questo video l'ho fatto fino ad adesso Quindi io ora vi darò un dolce abbraccio E vi sfronerò a venirmi a seguire su Instagram E così posso andare a farmi una pennichella Scrivetevi qui sotto nei commenti se questa tipologia di video vi è piaciuta Altrimenti non scrivetemi niente se non mi offendo E noi ci vediamo domenica prossima Ciao Ciao Ciao